Si è svolta nella giornata di ieri l'udienza conclusiva del processo che ha visto imputate per l'accusa di presunti maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione su minori le maestre della scuola elementare di Casella in Pittari. Il 21 ottobre scorso era toccato alle difese concludere chiedendo l'assoluzione delle stesse. Nel corso della precedente udienza del 24 settembre il PM, la dottoressa Le Rose, aveva concluso chiedendo la condanna a due anni e otto mesi per tre delle maestre imputate, mentre per la maestra Anna Girardina Torre aveva formulato la richiesta di assoluzione. Il processo che riguarda fatti commessi nel 2014 aveva visto dapprima il dispiegamento di una capillare attività investigativa corredata da numerose intercettazioni ambientali svolta dai carabinieri di Sansa e dal nucleo operativo Carabinieri Racis di Roma e successivamente l'escussione di oltre 30 testimoni tra genitori minori ed appartenenti alle forze di polizia. Nella giornata di ieri il presidente del collegio del Tribunale di Lago Negro ha dato lettura del dispositivo di sentenza. Tre delle maestre sono state condannate alla pena di tre mesi di reclusione, previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di abuso dei mezzi di correzione. Il Tribunale ha invece accolto la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa dall'avvocato Nicola Pellegrino per la signora Anna Girardina Torre, risultando quindi l'unica imputata assolta all'esito di questo lungo processo. L'avvocato Nicola Pellegrino, difensore della maestra Girardina Torre, ha espresso grande soddisfazione per l'assoluzione della sua assistita. La decisione adottata dal Tribunale, ha detto l'avvocato Nicola Pellegrino, ha finalmente restituito dignità ad una persona totalmente estranea alle vicende finite al centro delle cronache. La soluzione permette alla signora Torre di riappropriarsi di un po' di serenità, dopo anni di gogna mediatica che ne hanno offuscato l'immagine umana e professionale. Si resta in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza per il cui deposito il Tribunale ha fissato un termine di 90 giorni.